ciao a tutte e ciao a tutti nuovo video blog barra che criccio come state spero bene allora dunque innanzitutto volevo fare un blog di non so quanti giorni non so se ci riesco a prendere molte dico così e poi va tutto a farsi perdire e niente quindi nulla questo lo essere un video.blog che criccio e parlare con voi innanzitutto che dirvi di bello sto finalmente riuscendo a fare questi video blog però il problema non è il video se ho il contenuto ma è la luce per la luce non trovo mai la luce come voglio io non ne ho idea perché non parlo del contenuto solo ma anche delle anche della come dire da luce luminosità del video non il massimo quindi ecco perché ci rinuncio a fare video blog che poi non sanno di nulla quindi che non sanno di nulla perché non sono nulla sarò simpatico e poi mi ragazze allora dunque ho dovuto chiudere la finestra perché non è al massimo di di fammi vedere dai vicini non siamo rientrando per matto per dettagli e quindi se vedete delle parti stoppate sapete il perché quindi nulla praticamente oggi sono uscita a fare un giro fuori non sono riuscita a blogare niente perché volevo stare un po per conto mio e non mi sembra per caso sapete un secondo eccomi ragazze allora non so cosa si sentirà dei video di audio però sto provando a recitare con il microfono adesso chissà che mi sentiate e niente quindi che dire sto provando a recitare con il microfono perché vedo che si sente bene e si vede meglio anche quindi non lo so ragazze fammi sapere fatemi sapere voi se questo video vi piace un altro video farò video reaction delle canzoni italiane a ps perché mi ha scritto per chi mi avessi scritto come va il dente il dente va più che bene va benissimo intanto mi arrivano una sfizia di notifiche youtube va bene lo stesso e niente che dire non lo so ragazzi stavo pensando di fare appunto un video anche mukbang ma mukbang ormai già mangiato caso me lo fero un altro momento mentre mangio le fette biscottate mentre mangio le fette biscottate ok e niente stavo pensando che davanti di fare dei video un po epici un po particolari fatemi sapere se vi sta bene fare qualche video un po spettaculess come lo chiamano gli altri youtuber o direttamente striscia la notizia ok poi cos'altro dirvi niente ragazzi mie anche video anche video quelli come dire anche video tipo i trucchi con i trucchi che non piacciono che io odio voglio dire anche quelli sono belli da vedere dai ah volete i video smr ve li faccio tranquilli ve li faccio non subito ma ve li farò perché ho sentito dire che alcuni mi stanno guardando altri video sempre gli stessi video di smr ma ho intenzione di farli lo stesso di continuare a farne altri già e niente già questo è quanto poi oggi sono andata sono andata andata come sto parlando sono andata in giro ho fatto tutto il giro di palau tutto intorno a palau non sono uscita fuori da palau solo tutto intorno a un traccio vabbè non so come spiegarvelo perché non ho fatto neanche le foto vabbè niente sapete quando vado in giro mi dimentico anche di fare le foto ma chi se ne frega l'importante è stare bene con se stessi già o con se stesse ho detto la stessa cosa ma ci siamo capiti dai stanotte ho dormito un po' così e così bu poi poco fa ho preso anche le gocce per stare più calma più calmina e niente quindi se mi sentite con la voce più moscia è per questo motivo già voi direte non puoi prenderle prima di registrare i video no non posso prenderle perché non posso prenderle prima di registrare i video perché ho anche dopo aver registrato il video perché perché non ragazze non posso e basta devo prenderle basta perché altrimenti vado in tilt e incomincerò per le balle non a voi in generale ma in casa voi non sapete come sono ma tante volte mi tirano i 5 minuti quindi che mi viene voglia spaccare tutto fare cosa vabbè c'è un petre voi direte ma che patologia hai che hai questi comportamenti non ve lo posso dire perché non vi voglio allarmare troppo non voglio troppo stare lì a seccarvi tutto lì e niente appunto oggi ho fatto colazione con un caffè e un po' di tè caffè caffè con la panna poi ho preso le mie medicine per la mia patologia per le medicine poi ho preso anche altre gocce gocce per gli occhi e gocce da bere gocce per calmare mi servono poi gocce coliri e coliri per gli occhi sì io coliri e coliri poi mi sono truccata ma un leggero velo di trucco non si vedrà neanche nel volto nel mio viso però è così e niente ciao poi 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 cosa volevo dirvi niente ragazze che finalmente sto riuscendo a capire che video voglio fare solo che tutte le volte che faccio video è sempre la stessa identica cosa non si capisce mai perché dicevo pochi like e pochi commenti e anche pochi visual ma non me ne ho pregato di meno perché alla fine non mi campo da youtube ma mi campo dalla mia stessa vita dai miei stessi soldini che non mi da di certo youtube ma li ribadisco me li da lo stato questi soldi me li da lo stato perché perché sono pensionata ho una bella pensioncina non dico quanto però ce l'ho grazie allo stato io mi campo ok tutto lì poi cos'altro dire niente che tra poco ritorno a fare un po' di lettura che se non vedi fare palestra ma non la lettura la voglio fare voglio impegnarmi a leggere qualcosa perché se no rimango del tutto col cervello atrofizzato perché non capisco nulla è una cosa che mi fa piacere leggere e poi passare alla lettura più difficile da capire ma io non mi sento né tonta né tanto meno scema un po' tonta lo sono ma non a livello da non capire determinati libri un po' difficilotti tipo il romeo giulietto romeo giulietto romeo giulietta romeo giulietta romeo giulietta William Shakespeare libro che mi ha prestato mia madrina tu vorrei leggerlo ma prima voglio leggere di nuovo John Castello si chiama così si la dammicella d'onore la vorrei ancora tornare perché mi sta piacendo bello tanto sotto si guarda di là ma da questa parte ma è perché c'ho quanto sto guardando quanto ci sto mettendo a fare questo video niente tutto lì quindi John Castello la dammicella d'onore lo voglio leggere ma voglio leggere anche William Shakespeare di Romeo giulietta ovviamente la favola più d'Italia ovvero di tutto il mondo diciamo c'è la verità più più famosa in tutto il mondo perché loro vabbè non c'è bisogno che me lo anticipo perché tanto lo sapete tutti e sono veronesi sono di Verona ovviamente e io adoro Verona bellissimi non per altro ma perché Verona è stupenda e niente già nulla ragazze mie qui quando a volte mi vengo qua che mi guardo il paesaggio di vabbè non sto quello qua non mi voglio troppo annoiare però voglio dire che mi guardo Padre Pio voi non l'avete capito vero? si lo so che l'avete capito però io mi guardo il Padre Pio vedete questo le immagini di Padre Pio mi aiuta tantissimo per quanto riguarda le mie attacche di pane e così via quando torno tra la notte ho incubi e cose varie se ho incubi guardo questo qua e sto a posto perchè se no non riesco a dormire ragazza non c'è niente da fare anche se mi accento la luce che tra l'altro questa luce non fa una mazza perchè non si vede aspettate se spengo non è il massimo questa luce però vabbè niente poi con questo riflesso che si vede a questa parte non è il massimo non si capisce perchè e niente poi ho messo tutto incarcagliato ovvero ho messo tutto disordinato questo comodino tra poco ci farò pure un video prima sistemo poi ci faccio il video su come è diventato disordinato questo questo comodino se riesco faccio un video non l'ho mica detto però ci voglio provare poi allora oggi mi sono truccata con un po' di maschera un correttore e bronzer tanto già era un po' di colorito visto che sta arrivando l'estate eeeh vai viva l'estate si ragazzi non potete capire quanto mi piace l'estate l'inverno di più ma l'estate ancora di più oddio state cadendo dobbiamo mettere in modo che non tocco il tappeto siete appoggiati al tappeto tra il tappeto e il muro perchè vi ho incastrato il telefono l'ho incastrato al bastone del selfie che è appoggiato sul tappeto tra il muro e il tappeto quindi devo stare un po' attentina attentuccio a come a come mi muovo con i piedi perchè non vorrei calpestare il tappeto e farvi sicurare per terra niente ragazze e ragazzini tanto per dirvi una ah ecco qua cosa volevo dirvi aspettate un attimo che ve lo piglio subito questo aspetta un secondo questo qua sarebbe questo vedete questo qua si lo vedete all'incontrare ma io lo leggo al dritto questo è di Romeo e Giulietta William Shakespeare Amleto Othello si lo so è difficile da leggere però lo voglio leggere finchè capisco qualcosa perchè non lo so perchè ma a me è un vero sempre appassionato sempre più che appassionata affascinato poi come altro libro non per importanza John Castellum si chiamava si la damicella d'onore ecco qua questo questo libro è molto bello mi sta facendo ridere un casino non so perchè però wow è topissimo non lo leggo sempre anzi sono un giorno si e un giorno no che torno indietro con le pagine iniziali io non so perchè non riesco a leggere sto libro mi piace sono stupida e scema tante volte ma ogni volta che mi interrompo leggendo questo libro mi tocca tornare da capo perchè non lo capisco perchè tutte le volte all'inizio viene da ridere per quello che dicono all'inizio voi direte si ma che cosa cacchio dicono all'inizio questo libro allora parla di mascara che non c'entra una mazza poi parla di altre cose che non sto a spoilerarvi perchè sennò youtube mi banna il video ed è già troppo se mi banna il video quindi se trovate in qualche vecchia biblioteca questo libro qua vi consiglio di leggerlo perchè fa ridere davvero non mi posso spoilerare nulla perchè è un po' maialesco questo video questo scusate questo ciao questo video come no questo questo libro è un po' maialesco ma fa ridere è ironico diciamo che è ironico e sull'ironicità questo libro vedete john ops allora john castello vedete la damigella d'onore è bellissimo adoro fantastico vabbè una cosa ve la posso spoilerare tipo l'amica l'amica della sposa non so se era la sposa perchè fosse proprio la sposa di questo libro diceva che si sentiva guardata da una parte all'altra poi entra come si può dire l'invitato sarebbe il testimone che la guarda in mezzo al seno non è una cosa carina però le viene in voglia guardare in mezzo al seno cioè io dico ma gli uomini dove cavolo hanno la testa hanno solamente tette e culo io non lo so ma guarda un po' ma guarda un po' hanno solamente tette e culo ma si può sapere perchè vabbè non commenta comunque questo è molto ironico parla di mascara che la sposa sta truccando e vuole mettere un po' un filo di mascara un po' di blush che all'epoca si chiamava come fard non blush ma fard in francois in francese già mentre questo è questo libro parla oltre che di trucco del migliore giorno della migliore amica della sposa ok anzi più che altro della sposa della damicella d'onore e niente un po' ve l'ho spoilerato ma il resto dovrete leggerlo voi se vi interessa prendere questo libro qui di diciamo castello appunto rivardisco la damicella d'onore che è bellissimo e niente poi appena ho finito di leggere questa questa benedetta matassa di libro perché non so quante pagine siano aspettate che ve le dico non ne ho idea anche un po' vecchiotto vedete che vecchiotto ci sono cosiddetti segnaci di arancione non lo so ragazze adesso ve lo dico quanti sono di pagine qua non c'è scritto niente eh sarà un bel po' non è meglio che non ve lo dico ma sono tantissime pagine sono non ne ho idea di quanti allora questo è dove è preso dalla Mondaturi si vedete Mondaturi bellissimo questo libro Mondaturi non si leggerà mai ma quella vicina Mondaturi John Castello traduzioni di Adriana Colombo vedete già poi appena vi dicevo prima di tutto prima che questa appena avrò finito di leggere questo ovviamente cosa fa la vostra sottoscritta passerà a questo voi direte ma perché cavolo te ne frega di passare a quello raga se mi va mi va perché non passerà a questo se mi piace se mi interessa se mi incuriosisce e quindi alla fine passerò a questo altro libro un po' difficilotto ma ci voglio ci voglio curiosare poi rileggerò un'altra volta l'Ole che vuoi dirla che sarebbe Giovanni Paolo II perché mi interessa molto leggere quel libro niente l'ho già letto più volte quel libro ma sono interessata a rileggerlo da capo tutto lì dovrebbero quel libro ce l'ho lì da quella parte verso la mia sinistra della scrivania della postazione computer lì è nulla ragazzi i miei ragazzi io adesso passo passo di là e cambio di postazione ok dai sempre se non sbaglio come chiudo vediamo un po' allora ho appena pulito i pennelli non so se era ieri o ieri sera avanti non mi ricordo vedete ho lavato i pennelli eccoli qua vedete tutti i pennelli lavati ovviamente ho utilizzato un altro pennello per non sporcare proprio quelli ok e niente dunque 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 scusate prima l'interrotto di mia mamma però lei stava parlando perché si andava a curicare a fare il riposino e io invece me la godo facendo ora i video su youtube niente aspettate un secondo allora siete messi in una posizione un po' curiosa un po' strana però non ho potuto fare di meno ops sto davanti pure cadendo molto bene già e niente praticamente sto continuando a bloccare ma non so per quanto riuscirò a bloccare ora c'è un silenzio allucinante ma meglio così perché dopo continuerò a fare un altro video ovvero lo programmo lo aiuto quando riuscire a parlare lo programmerò programmerò per stanotte il video e parlo della ASMR ovviamente mentre gli altri li programmo per o domani o dopo domani vediamo non lo so non posso dire una mazza però vabbè ci voglio provare quindi gli altri video invece li farò ho come dire questa moschina quattro ricca scusate ma quei moschini c'è uno ogni volta che registro vabbè e quindi niente non lo so ragazza adesso sono le 14 e 21 vedete 14 e 21 sì che dirvi sì sono un po' scocciata perché tutte le volte è la stessa identica cosa quanto riguarda il video che faccio però non ne vogliono neanche fare una colpa perché purtroppo sono così sono come dire sono stanca di capire come funziona youtube come vale l'algoritmo youtube perché non spingere i video ne consigliate e così via ma non è vero io li vedo che li spingere consigliate li vedo nel senso che mi arriva la notifica che è consigliata però è anche vero che mi devo impegnare io a farli uscire nei consigliati a spingerli cioè le miniature la descrizione e i tag più che altro la miniatura è un buon titolo perché anche il titolo fa il suo e la descrizione come prima cosa come primissima cosa e anche i tag la descrizione è primis perché senza descrizione senza descrizione non si va da nessuna parte ma anche i tag sono giusto però in primis la miniatura la miniatura è la cosa più che spatte all'occhio di chi ti guarda o di chi mi guarda perché in questo caso parlo di me quindi vabbè e niente non lo so ragazzi c'è qualcosa che non mi convince di youtube ma io me ne frego non mi interessa dire le visual degli altri alla fine ho capito che se guardo le visual degli altri non mi allora vabbè c'è anche altri youtuber che si stanno un po' scazzando per quanto riguarda le visualizzazioni ma gli altri le dicono cosa e a me invece mi volete fare a polpetta a salsiccia se io dico qualcosa di sbagliato che non vi interessa a voi subito mi linciate io non so perché fate così boh non l'ho capito ancora come non posso dire che non faccio visual ma è vero la verità voi direte sì ma devi prepararti un test un qualcosa uno script per quanto riguarda le visual ma vi pare facile a voi a me non per niente sì è vero ho capito preparare lo script però anche se mi preparare lo script non è la stessa identica cosa perché quando mi preparare lo script è come se stessi non lo so recitando non è una bella cosa quindi devo capire bene cosa voglio fare tutto lì i ragazzi miei i ragazzi miei già e niente così e niente così quindi ragazze stay tuned per vedere video smr che per lo stasera anzi anzi li faccio uno dopo l'altro oggi e poi li mando in onda anzi li programmo in onda per i prossimi giorni così a meno non vi stancate ok se o se non li metto in privato vediamo ma se no youtube non mi da tempo neanche di non do al tempo a youtube di elaborare i miei video la cosa ho capito va fatto così poi non lo so se non li metto tutti in privato e li pubblico ma vabbè più pubblico più lì vedete i miei video non lo so neanche io adesso non va boh e niente intanto qua quanto si sta facendo le le 14 e 25 vedete no non si vede 14 e 25 aspettate e il telefono un po' è spaccato qui non so se si nota però 18 e 25 e 26 adesso se mi starete chiedendo perché guardo il cellulare ogni volta che registro i video con voi vabbè guardo più che altro l'orario perché mi interessa sapere che le sono e quanto metto io quanto ci sto mettendo a registrare i video perché vabbè chi se ne frega non ce lo deve essere le radio però si è così comunque ribadisco il dente lo sto lo sto curando bene nel senso che non c'è più nulla il dente l'ho tolto un dente l'ho dovuto togliere perché era amace le radici ed era amace lui e quindi l'ho dovuto per forza togliere per adesso per adesso devo andare a curare delle cariette delle carie per parlare migli per mangiare miglio mangiamo con parliamo e mangiamo con miglio e dopo allora vi dicevo devo curare delle carie devo curare delle carie e poi ovviamente potrò mettere anche l'apparecchio perché l'apparecchio devo metterlo per forza di cose non si sfugge di lì farà fastidio però l'apparecchio devo per forza metterlo vedete come è l'identica ce l'ho uno così e l'altro no comment però vabbè si sono un po' migli identi ma non tantissimo quindi ecco perché ho bisogno dell'apparecchio come già e niente già non so se questo video voglio modificare cosa vediamo se riesco a modificarlo già vediamo se riesco a modificarlo non è detto non è detto per niente intanto qui mi vedo così moschina e moschia di barbo vabbè le 2.28 ok le 2.28 già bene ragazzi ragazzi miei allora oggi a pranzo ho mangiato del buon minestrone voi non l'avete visto ma vi giuro che ho mangiato un buon minestrone e niente e niente allora la pentola a pressione abbiamo utilizzato abbiamo utilizzato per fare il minestrone molto buono già e nulla era un po' bambu dopo di dire verità era un po' bambu questo minestrone però ci ha messo un po' di sale il sale non fa bene per niente perché non fa bene però un pochettino di sale un pizzichino minino ce l'ho messo di sale un pizzichino piccolino un pizzico di sale ce l'ho messo perché altrimenti non sapeva di niente il minestrone non è quel minestrone già pronti e fatti ce l'abbiamo fatto non con le verdure quelle che ho comprato al supermercato anzi no al mercato di Palau quello in piazza e niente e da lì abbiamo fatto il minestrone lo abbiamo cucinato io e nonna la prossima volta faremo il minestrone insieme magari in video vediamo se a voi mi interessa o meno lo farò già poi cos'altro dirvi quando riescerò a crescere di più su YouTube farò delle live vediamo anche se non cresco però le live le farò lo stesso non mi interessa le visual le voglio fare lo stesso niente questo è quanto adesso le due e mezza già e di nulla oggi non vi dico qualche figura che mi sia successa è allucinante no non parlo lei di saluti e né tantomeno di di altre figuracce strane però una me la sono sentita addosso di figura non so perché non cercate di quindi non è così allora vi racconto questa questa è una come dice mia una curiosa una storia curiosa e affascinata vabbè praticamente avevo le luci le labbra tutto attorno le labbra tutto bello ben messo e cose tutto quanto cosa mi è successo talmente metterne troppo che mi ha dato qua questi due denti addio mio che roba che schifo vabbè me l'ho visto io dopo che sono tornata a casa ma si può mai qui sopra questi due denti vedete qui ora me l'ho tolto per un po' di tempo che me l'ho tolto però prima in giro dicevo ma questa gente perché mi guarda così ed ecco perché avevo i denti il blu ce l'avrano i denti non era color carne era color carne rosa però un rosa quello tipo si avevo quello della labello della labello di Valentina Ferragni cosa quello che pubblicizza Valentina Ferragni per l'esattezza quindi quindi niente mi sono dovuta arrangere la toglia non l'ho tolto fuori casa l'ho tolto quando sono entrata che è peggio ho dovuto toglielo per strada guardami allo specchio invece non me l'ho tolto mica niente non me l'ho tolto mica fuori perché fuori mi veniva male a cercare prima di tutto uno specchietto e seconda cosa mi veniva male a cercare anche il come dire a cercare che sto dicendo a mettere il telefono in borsa e a cercare lo specchietto e vabbè niente ciao cosa altro devo dirvi? ah qui ho la mia pezzetta per pulire anche il come si chiama il per pulire sia gli occhialetti gli occhiali parlo come mangio che meglio gli occhiali da vista ma anche il mio telefonino aspettate un attimo se mi riesce se non faccio quattro ore di chiusura ok sono riuscita capire come la pausa la pausa dei video però vabbè niente e nulla ragazze mia questo è quanto aspettate un secondo vado a spiegare le luci in bagno ok a posto dunque vado a prendere una cosa qui prendere questo qua vedete questo e si lì vedete che c'ho che c'ho ancora le scatre da togliere lì del dentifrice del collutturio perché ho dimenticato di metterle dentro il come si chiama il si insomma dentro il cesto delle della carta da buttare via tutto lì ho sfruttato il secondo però voglio mettere bene se mi riesce eccomi qua allora dunque siete mesi un po' storti ne paro pazienza non trovo altro come mettere più dritte di così e non lo so ragazzi io pensavo che in questo video mi sa che non ti tellerò non lo so neanche come titolarlo veramente boh quanto è difficile trovare dei titoli per certi video boh il lunghi non lo so se faccio la mia giornata o come weekly vlog mini weekly vlog dopo i miei intanto miei non è perché sto parlando e parlando e parlando 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 vabbè questo è quanto mi sa che non metta nessuna transizione mi sa che il video non mi difiego per niente si vedrà intanto qua fa bella giornata, sta facendo bella giornata, è veramente caldo infatti inizi avevano tutte le barche piene di gente per andare alle isole all'arcipela gommata legino, ok? aspettate, vedete che bella giornata, che bellissima giornata bella giornata, bella bella bella, queste belle giornate io le adoro in primis, non so perché ma mi piacciono perché è bello di caldo, calduccio, non che io amo il caldo però il freddo non lo so porto proprio, il freddo tante volte li fa congelare, non molto tipo che non sono molto assiderata di che freddo, tanta fredda che avevo, parlo di quando ho fatto il vaccino per il covid tutto lì non si potrebbe dire però, ma l'ho detto, quindi vabbè, e niente, quindi alla fine ho fatto questo benedetto vaccino del covid, ho sentito un leggero freddo, ma un freddo che poi a un certo punto si è entrato nelle ossa e non capivo neanche io il perché poi mi sono spaventata perché mi sembrava un freddo assurdo, invece no, era un... poi mi sono riscaldata, piano piano, ma ce n'è voluto a scaldarmi va, per carica di Dio scusate un attimo, allora vediamo un po' se mi riesce no, così no, così no oddio, boh, no eccomi qua, allora, ho potuto togliere il pastone dei selfie perché era troppo scomodo e quindi alla fine ho detto, come si dice, o levo il pastone dei selfie o il video lo farò completamente storto e infatti ho dovuto toglierlo per forza e niente, intanto mi ha detto col microfono non so cosa si sentirà, però spero che si senta qualcosa perché veramente non so neanche più di questi microfoni che si sente maluccio già io mi auguro che posso caricare il video, non lo carico in modalità più più bassa ma più alta, se ci riesco, non è detto neanche ma ci voglio provare già magari scarico un'app che lo carico in 4k, vediamo, non è anche detto cioè non è che lo carico in kinemaster, vediamo non lo so, non ne ho idea, già però questo telefono perché ho messo così e non capisco, aspettate sì, ho le mani rugose, vero? già lo so non ci posso fare? niente è nulla come ho dormito stanotte? io sto bene, ho dormito benino e non solo a mia nonna sembrava che ho detto mamma, invece no chissà cosa ha capito mia nonna che stavo dormendo no, veramente beatamente boh non ne ho idea, e vabbè niente il mio nonna lo so ok sono riuscita finalmente a scomperne da un po' di spazi perdonate quando sono così perché con la medicina un po' di effetto me l'ha fatto però, almeno mi ha tolto uno spazi che non potevo fare me l'ho fatto quindi prendetemi così come sono e pazienza quindi niente ragazzi, grazie miei stavo dicendo cosa che oggi mia nonna oggi è il verde e al mercato ha preso i fiori i fiori per mia madre e mio nonno anche perché mi hanno dovuto sapere che per chi è nuovo che ahimè mio nonno purtroppo non c'è più da 98 si dal giorno mio compleanno 28 ottobre 98 e già è venuta a mancare all'affetto mio anzi all'affetto dei suoi cari e al mio soprattutto il 28 ottobre del 98 e quindi niente alla fine alla fine purtroppo un infarto se l'ha portato via anzi me l'ha portato via perché a me è dispiaciato un voto quando mia nonna non ce l'ha fatta più vabbè non ci pensiamo non ci voglio pensare fa troppo male perché voglio prenderla con il sorriso perché mia madre avrebbero voluto che io sorridessi ed è così mi tolgo gli occhiali perché mi ha dimenticato gli occhiali perché si vede riflesso non è bello da vedere aspettate ecco ecco qua senza occhiali io non vedo una mazza ma va bene lo stesso e niente quindi che dire ho preso ho preso ho preso in piazza e non so quanto alle mie pagate ma neanche ve lo dico tanto non credo che mi interessi ho preso tante altre verdure in piazza appunto per fare come dicevo prima per cucinare per me ho mangato quella poi dopo il pranzo veniva ho voluto per non senza caffè sa piatelo tra troppo buona caffè, sono una caffettomena dipendente dal caffè e io posso dire niente, non è colpa mia, già, e niente, già, quindi ragazzi miei, che dirvi, tra poco vi faccio il dsmr, lo so è fastidioso questi spadigli da fare, vi posso fare, niente, tanto tra poco vi faccio il dsmr, vediamo, lo programmerò per stanotte, ok, se non lo metto in privato, lo programmerò per modo di dire che lo metto privato, lo metto stanotte, vediamo, ok, già sembra questo un dsmr, perché sto parlando piano e bassa voce, niente, guardo il telefono perché voglio vedere chi sono, sono le 2.45 vedete, si sono le 2.45, e io adesso troppo stacco il video e poi niente, ancora mi metto perché non vedo una mazza, veramente, non vedo ben niente, complimenti a me, vabbè, se collette sapere chi è quel quadro, quello è stato di tratto, e mia madre, perché è nuovo di qua, e mia madre questa qua, si chiama Valina, tutto lì, allora dunque, se dovesse commentare un tipo qua sotto, e mio padre si chiama Sidney Park, ok, nulla, tutto lì, ciao, oggi, anzi, non oggi, con lei, io devo dire, sì, va bene, anche oggi, in questi giorni mi sono facendo tantissimi balze, le shampoo, per i capelli, anche se sembra un posto opposto, ma non lo sono, vi giuro, e che ci ho dormito su, senza niente, sopra, perché tante volte quando me li lavo e tutto quanto, non ci metto nulla per agli asciugati, se li faccio asciugare all'aria, però comunque non ci la mano, però non ci la mano l'ho ottenuto per dormire, quindi sono rimasto un po' più attivi, però vabbè, niente, allora, di nuovo cambio di angolazione, per il secondo, ecco qua, scusate, ma se non chiudo la porta, sente tutto il baccano della tv, ed è bruttissimo, dunque, 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 io ora chiudo, perché altrimenti non riesco più a chiudere, non riesco più a fare altri video, e quindi devo per forza chiudere, niente, ragazzi miei, ragazzi miei, che dire, finalmente, finalmente che, vabbè, oggi sono tutta un po' mezza andata, vabbè, non ci fate caso, dunque, e ragazzi miei, sì, questa è la mia borsa, che mi porta sempre a presso con me, questa è l'unica borsa, mi sta veramente piacendo questa, vedete, no, una mazza, ma vabbè, niente, io oggi l'ho vestita così, sono vestita così, vedete, a parte le pantofere, non c'entrano la mazza, perché, avevo le scarpe da tennis della Nike, e questi sono i miei pantaleggings, va bene, questa è la mia maglia, come vedete per vedere, ecco qua, la mia maglietta, e nulla, che dire, queste sono le mie sopracciglia fatte da stamattina, e ancora sono rimaste belle intatte, oltretutto perché non ne ho posato nulla oggi, quindi fa niente, sì, così come vedete, sono mezzi dei pelacci che sono usciti fuori, ops, mi stava cadendo il telefono, aiuto, e anche da questa parte, non commento, vabbè, devo fare tutto quanto, dal viso e anche il corpo, quindi non ci fate caso, ragazze, tra baffetti e basette, devo fare tutto di nuovo da capo, anche il mento devo fare tutto quanto, vedete, vabbè, il mento me lo fa mia nonna, perché lei ci mette poco e nulla a farmela, quindi le fa anche piacere coccolarmi un po' a mia nonna, devo dire assolutamente la verità. Cosa vi stavo dicendo? Niente, vabbè, a parte il disfatto che ho, ma chi se ne frega, non è che posso stare sempre lì e essere perfettina, però ci mancherebbe altro solo quello che sia perfettina, e niente, che dire? Oggi, appunto, è Dalli che mi ricade il telefono, vabbè, sono riuscita finalmente a contentarvi di fare un altro video di quelli ASMR e il resto, aspettate un attimo che qua vi accorcio un po'. Ok, ho accesso alla Ring Light, per così mi vedete meglio, decisamente, e niente. Quindi, praticamente, se io sto dietro, vedete tutto quello che è mio, ovvero tutto quello che è trucchi e cose varie, però l'unica postazione che ho è questa, non ne ho altre, e quindi mi devo arrangere con quello che ho, ovviamente, come è giusto che sia. Cosa dirvi tutto questo? Non ho detto nulla di importante, però almeno sono riuscita a parlare un po' del tanto con voi. Per me è una terapia parlare con voi, lo so che voi forse non mi definite come la vostra amica, però a me piace tanto parlare con voi. E nulla, nel prossimo video farò anche un video dove parlo di tutte le mie idee che sto puntando qua sopra, a partire da questa, suggerita da Stefania, dimensione di artistica benessere, come che sia, non mi ricordo il suo nome del suo canale, comunque, le ho suggerito di fare un video, nel video vlog, quello che adesso non mi ricordo più, il commento suo, dove vi faccio vedere che appuntavo tutte le mie idee qua dentro, di YouTube e non solo. Poi invece nell'altra agenda, vorrei appuntare cose mie diverse da queste qua di YouTube, vedete, ce l'ho tutte e due qua, questa, sia questa che questa, questa è del 2023, come l'anno in cui siamo adesso, e questa è del 2000, non si sa, vabbè, comunque, ve lo accendo tanto per scrivere gli appunti, per riorganizzare le mie idee di YouTube, ma non solo. Niente, questo è quanto, sì, lo so, vedete tutta la mia peluzione, tutto il mio, cazzi e mazzi vari, del mio corpo, però, ragazze, sono di carne e osso come voi, quindi, è ovvio che mi vediate tutta bella, non dico pelosa, ma quasi, che più posso fare? E così, ah, voi non sapete una cosa, la ragazza, non voglio adesso, dire brutte cose, però è la verità, ho sentito, è una mia amica di YouTube, che mi segue, che mi segue, non so se sia su Facebook o TikTok, non mi ricordo, comunque, che la ragazza, anzi, la ragazza dei Mane Skin, che non mi ricordo quale sia, vabbè, quello che canta, Gitti e Buoni, sarebbe, la ragazza dei Mane Skin, ho sentito che si ripilava, poco o per niente, sia l'ascelle, che, vabbè, non so se le gambe o cose, forse solo l'ascelle, si lascia andare un po', vabbè, pazienza, vabbè, il resto è tutta ben truccata, ben curata, tutto quanto a posto, tranne che, come dire, tranne che, appunto, le ascelle, vabbè, che se ne frega, ognuno li vuole di togliersi, o meno, le peli, le ascelle, tanto per dire a voi, che ognuno li vuole di tenersi, le peli, le ascelle, o meno, per me è antiestetico, però, oggi, siccome è andata così, non vi ricorderei anche il motivo, perché non sto andando più dall'estetista, perché, non è un motivo, come dice Milano, vi riguarda, però, non voglio stare antipattica, neanche troppo, ecocentrica, nel fare, nel dire brutte cose, però, no, non è un brutte cose, più che altro, non voglio parlare troppo, brutalmente con voi, però, non mi sento neanche, di dirvi, il perché, mia nonna, non porto l'estetista, non perché, mi sono comporta male, perché mi comporto bene con lì, no, questo sia chiaro, però, siccome che c'è stato, un piccolo inconveniente, non dico, di che cosa si tratta, perché anche lì, non voglio entrare nei dettagli, perché, non so nulla io, ecco, se sapessi, non ve lo direi lo stesso, però, se sta il fatto che, voglio, non voglio, non posso dare sedista, perché, al momento, mi devo arrangiare, o mi depila lei, o mi depilo io, dipende, ma io con la celestà, non ci so fare, è inutile, ci proverò, ma, uscirà un bordello, un casino, vabbè, a proposito di, bellezza, ora mi sparo, una bella sfruzzata, di, questa, avene termale, acqua termale, vedete, non si vedrà mai niente, però questa, niente, allora, ecco qua, se adesso, mi vedete rossa, perché lo sono, sono bella rossa, sono molto rossa, però pazienza, pazienza, quindi niente, ragazzi, allora, io mi sono un po' rifrescata, il viso, e non solo, tutt'altro, pure, con il décolleté, però, mi sta bene così, alla fine, ce l'ho fatta, finalmente, ragazze, questa è la mia, acqua termale, la metto così, e passata in giù, perché sennò, non si legge, il mio, cioè, non si legge, la scrittura, niente, ragazze, ragazzi miei, con il pennello, che ho usato, per mettere, la bronzer, è questo, ragazzo, lo vedete, è questo qua, questo di Pink Panda, vedete, cioè, e niente, come bronzer, lo sapete, utilizzato questo, questo qua, vedete, cioè, questo sarebbe, che determinato, no, niente, ebbene, sì, ragazze, è arrivato, il momento, di salutarci, e di vederci, al prossimo video, se è così, mettete un bel like, di supporto, un commento, e, perché no, iscrivetevi al mio canale YouTube, se vi fa piacere, se vi ha fatto compagnia, perché no, se avete passato, un bel momento con me, perdonatemi, per tutte le, chiacchiere, inutili che ho fatto, però, mi andavo, di parlare con voi, è vero, però, avete ragione, voi, vi ha fatto, un commento inutile, non ho moccione, ragazze, è solo acqua, che vi ho tolto un po', acqua, l'incesso, di questa, vedete, questa qua, questa, tutto lì, niente, noi adesso, ci becchiamo, in un prossimo video, ASMR, o video reaction, delle canzoni, che mi piacciono, più a me, e ci vediamo, prossimo video, ciao ragazze, a presto, un bacio,